Nello straccio, che è il metodo semplice e normale, quello da scuola, io ho fatto l'arte bianca di Torino, quindi quello che ci insegnavano a scuola, e poi c'è quello a bagno nell'acqua. Il lievito madre a bagno nell'acqua è il metodo più dolce, quello che ti dà il risultato più dolce, non sentite l'acidità, ed è infatti il metodo tipico per il panettone, quello piemontese, sì. E' noioso l'acqua, è noioso tenerlo nell'acqua perché ogni volta la rovesci, la moglie si incavola. Abbiamo sciolto quindi il nostro lievito e semplicemente andiamo... Grazie.